Credo l'ingiuntivo è proprio una Nick esilarata. Che mi dice? Sono proprio cazzi amari. La povera vecchia ammazzata così. Nick aveva il cancro. Questo non è detto. Invece è la pura verità. Sì. Era malata da dieci anni. Calma. Ciao, ci vediamo all'incrocio, mia cara. Cazzo fai? Vuoi rovinarmi questo? Mio padre e la mia futura sposa sono letteralmente a un passo da noi. La futura scrofa è qui. E quella cos'è? Che fai? Rompere. Cazzo, ma sei strafato? Oh, è vero. Questa è sigaretta elettronica. Ti ho messo l'erba, ma è una sigaretta elettronica. Che hai deciso? Ma vuoi crescere? Oh, senti che parla. Quanto sei cresciuto tu? Per caso senti la radio nazionale nella Volvo? No. O forse ti impegni a bridge soltanto per umiliare i colleghi? No, no. Hai in vacanza in affitto con altre coppie per giocare ai giochi da tavolo con una bottiglia di vino bianco? Jason. Nonno scatenato al cinema. Nonno scatenato al cinema. Nonno scatenato al cinema. Grazie a tutti